abbiamo detto 1270 1270 questo sono 2000 lire il signore dovete avere 730 di resto ecco a voi e queste sono le 2000 lire e per stasera serve lì l'ho pregato tante volte o per il pranzo o per la cena non mi devi dare responsabilità tu domanda alla signora più tardi salgo e non ci parlo se ti voglio ti chiamo non mi risparmiate salitare risparmiavo te ma stai stai vai stai comodo e le 2000 lire e il resto mio signore il resto qua l'ho messo e io le 2000 lire per quale l'ho messo e beh come si spiega signore io le 2000 lire in tasca non ce l'ho ma io nemmeno ho il resto tuo e beh allora tu conosci il mistero e i fantasmi so che stanno a essere delle scherze